Oh, fa un cazzo di caldo qua sopra? Sì, no, è vero. Ma te con quella felpa? Io non me la posso togliere perché mi sento nudo, altrimenti, me la vedo un po' di più, lentamente. Buonasera a tutti e buonasera a tutti, benvenuti alla puntata numero 163 di Tintoria, applauso. E vai. Grazie mille, alla mia destra, come al solito, Stefano Rapone, ragazzo bello e capace, ci troviamo sempre da snodo, siamo sempre coprodotti da The Comedy Club. Come stai? Ciao, sto bene, un po' emozionato. Emozionato? È un po' che non facevamo... No, abbiamo due settimane che non registriamo, la settimana scorsa. Stavo in vacanza. Io stavo a New York e ho due cose per te. Ah, mi hai fatto un regalo? Stai calmo. Allora, la prima cosa te l'avrei dovuta dare mesi fa, è un santino che poi faremo vedere alla telecamera. Bello. Un santino. Sì, un santino tuo. Bello. E se leggi... Questo me l'aspetta, fermo, 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 fermo. Beh, questa professionalità. Se me l'hanno dato mentre scendevo dal palco a Bologna, quindi un po' di tempo fa, me l'ha dato Irene, aka Balotta Slayer. Ma poi adesso, sai, i bolognesi parlano così. E io ci ho messo più di un mese a ricordarmi di portartelo. Però non è male. Giralo. Guarda cosa ti ha scritto. Hai provato magnesio e potassio? Perché tu sei sempre stanco, capito? Eh, certo. No, non l'ho provato. Insieme? Cioè, si prendono insieme? Eh, non lo so, non sono un chimico. Siete esperti? No. Insieme si prendono. Il polase. Ah, quindi facciamo nomi, facciamo mare. Che il potassio è la banana. Bravo. Il magnesio? Le calamite. Le calamite, certo. È il cattivo degli X-Men. Sono magnesio! Certo. Ho visto che sei sempre stanco, o comunque c'è sta gag, poi in realtà è un tono, però ho visto che sovente sei stanco, io dal mio viaggio negli Stati Uniti ti ho riportato questo. Che cos'è? Five hour energy drink extra strength. Extra strength? È un'americanata. Vitamins, nutrients, caffeine, sugar free. Eh, se lo vuoi prendi adesso. Quelle cose che servono i camionisti per fare tipo le traversate. Per fare le traversate cross country, oppure lo prendete adesso per fare tintoria. Guarda, no. Però ti ringrazio del pensiero. Questo è quello che ti ho riportato dall'America. Ah, grazie. Molto apprezzato. Insomma, non mi sembri proprio... No, no, no. C'ho paura che mi prendi un infarto. Se non lo prendi. Può essere. Però me lo tengo. Grazie. Ti ringrazio. Prego. Com'era questa America? Bella. Cioè, ho visto solo una città, quindi nel senso il resto del paese. Però New York è bella. Tanta roba. Divertente. Le metro vanno avanti tutta la notte. Sono piene dei matti. Piene dei matti. No, i matti nostri. I matti loro. I matti veri. Cioè, quelli sono matti. Che facevano questi matti? C'hanno tutte piaghe sulle gambe. Piena di ratti. Piena di ratti. No, dici... No, no, piena. No, come le nostre. Di notte, New York è tutto un sorcio. Letteralmente. È sottopio ovunque. C'era Splinter. Se lo cercavi, lo trovavi. Trovavi, certo. Sì, sì, sì. Però bella, divertente. Cioè, pure le cose commerciali. Cioè, tipo Times Square si dice, ma per i turisti. Ma sai perché è per i turisti? Perché è bella. Cioè, nel senso. Pure il Colosseo è per i turisti. Lo sai perché? Perché non è male. Io ho visto un programma televisivo a New York, che è quello che fa, come si chiama? Little Big Italy. Ah, sì, sì, certo. Quello che trova i migliori ristoranti italiani a New York. A New York. E era bello perché è andato a tutti i posti, che però non facevano questa cucina così italiana. Però c'era questo che faceva un salmone allo champagne, che era salmone, panna, cioè crema con la loro, e champagne. E tu ti dici, no, ma che è questo? Per me era buonissimo. Cioè, sembrava buonissimo. Volevo mangiare troppo. Ma infatti il problema di quel programma è che, tipo, dice, ah, andiamo a mangiare il mio posto di cucina italiana in Costa Rica. E poi fanno, metti la panna nella carbonara. Stupido! Ma magari in Costa Rica ci vogliono la panna nella carbonara. Cioè, che cazzo, lui deve vendere. Non è che devi fare contenti noi, che stiamo in Italia davanti alla televisione. E poi c'è questa cosa. E poi c'è questa cosa. Non ci verrò mai nel tuo ristorante italiana in Costa Rica, perché se no invece ci andavi, capito? Sì. E poi c'è questa cosa che c'è il fuori menù, che è scorretto. Sì, sì, che tipo, io sono scappato dalla... No, sono scappato dalla Puglia per aprire questo ristorantino a Shanghai. E lui dice, ah, ok, allora adesso mi fai il cacciucco. E lui dice, no, mai sentito nominare, no. Cioè, chi è che viene? Chiedo scusa agli emigrati pugliesi in Cina. In Cina. Chiedo scusa subito. Vabbè, questa comunque è la mia esperienza di New York che ho fatto. Hai visto un programma? Ho visto un programma in TV che era ambientato. Come esserci stato. Esatto. E te che hai visto lì? Ah, mi sono andato a vedere il musical The Book of Mormons a Broadway. Ah, bello. Bellissimo. Bello. Io non sono grande fan di musical, semplicemente perché non li ho mai visti. Capolavoro. È degli autori di South Park. Sì, sì. Una cosa incredibile. Se vi capita, lo fanno o a New York o a Londra. Andate. Non vi fate scoraggiare dai prezzi new yorkesi e londinesi. Andate. Vale troppo la pena. Poi fa mega ridere perché è tutto sulla storia dei mormoni. li prende in giro, però comunque poi ti insegna le cose. Sì, comunque i mormoni sono rimasti contenti, mi sa. Sì, sì, perché loro sono dei grandi comunque, a modo loro. Sì. E hanno la storia assurda. La cosa loro è che prima dei nativi americani, in America c'era già andato uno dei popoli ebraici, era andato là ed erano bianchi comunque sia questi. e stanno là e quindi quelli erano i veri, capito, i discendenti. Sì, e tipo gli è apparso Gesù a questi qua nei tre giorni in cui era morto da noi, capito? Incredibile. Certo. Di là sono morto. A voi. E ha scritto queste dieci tavole d'oro su cui ci stava il regolamento di questi, loro sono quindi cristiani 3.0, cioè capito? Sì, sì, sì. Ebrei, no, quattro, vabbè, non lo so, però ebrei, cristiani, musulmani, loro, cioè poi loro secondo me se gli dici pure musulmani fanno ah ah ah, però vabbè, perché tendono a essere molto americani, americocentrici, diciamo così. E poi quindi ha scritto queste tavole d'oro che poi le ha trovate casualmente il loro profeta che è Joseph Smith e le ha trovate nel giardino di casa sua, incredibile. Certo. E questo lo dicono incredibilmente nel giardino di casa sua. E quindi lui legge queste tavole con la parola di Dio e c'è scritto nordvpn.com slash tintoria. Ah, vedi. Vedi. È che... È tutto il musical. È tutto così. You get it from the link in the description. Sono tutte canzoni... Link in descrizione, link in descrizione. Io facevo, ma perché in italiano lo dicono? E quindi, capito. E che puoi fare? Che ti dicono anche cosa puoi fare? È tutto cantato, ora io non so cantare, però è tipo Protect your password. Ah, vedi? Sì, sì, sì. Higher security. Very fast speed. È tutto così. Che poi faccio questa cosa che i mormoni, per esempio, non dicono amen. No, cosa dicono? Non mi ricordo più. Mi sa che dicono basta un click. È vero. E infatti la canzone finale è... Sì, sì, sì. All you need is a click. All you need is a click. Qui in nordvpn.com slash tintoria. .com slash tintoria. Amazing coupon. What a discount. Vedi, vedi, vedi. Bello. Bellissimo. Consigliatissimo. And also today... Questi dollari. Questi dollari ce li siamo portati a casa. Vabbè, comunque non è certo grazie agli show di Broadway che siamo arrivati alla puntata numero 163 di Tintoria e non è certo grazie agli energy drink che siamo arrivati alla puntata 163. Deve essere grazie agli ospiti straordinari che abbiamo la fortuna di invitare ad ogni puntata. Quindi senza ulteriori indugi andrei a presentare l'ospite di stasera. Signore e signori, per favore un grande applauso per Piero Pelù. Grazie agli ospiti straordinari. vengo anche io a farla comparsa si arrotonda si si poi prendono 203 vabbè adesso non entriamo lordi è lordi o teste no 230 mani è chiaro comunque luci così bianche nemmeno dalla carraccia infatti con tutto il bene fate come dice lui qualunque cosa vi sbarello i podcast sarebbe un piacere ma infatti volevamo chiederti proprio questo Stefano si era presentato ma a noi ci pare in forma smagliante aspetta devo parlare nel microfono non vi offendete mi hanno detto non ti allontanare dal microfono mi raccomando me li mangio da 40 anni i microfoni secondo voi Stefano si era preparato una bella domanda è importante chi è che va in giro a rubare i cartelli stradali per fare questo podcast i tavolini siamo noi i paro alternativi ti piace? te lo diamo se vuoi tutto quello che vuoi anche io c'è un bel po' di cartelli stradali ho capito cosa ci posso fare il tavolino non è male tu hai dei cartelli stradali hai dei cartelli stradali capita quando si gira tanto no li trovi crollati molto arrugginiti tipo c'è uno dove c'è un motociclista c'è un segno di divieto come questo e un motociclista di questi proprio molto stilizzati tipo anni 40 a cui qualcuno ha disegnato sopra il cappello da carabiniere e le corna ha detto no secondo te non l'ho raccatto una roba di genere ce l'ho fu collezione anche dei cartelli stradali ah e poi che ci fa li metti appesi no aspettavo l'idea ah vedi è così davvero puoi farci è un'ottima idea perché dicevo ora li appendo ma che senza un cartello stradale sta sempre appeso si era anche rotto i coglioni sai che la facevo pure io sta cosa però io da giovane prendevo i cartelli stradali e li appendevo in camera e poi mi sono sempre chiesto che ci faccio e adesso mi hai dato tu l'illuminazione perché non ci avevo pensato no e io faccio i complimenti a chi ha avuto questa idea di una semplicità imbarazzante che mi fa sentire un vero coglione tutti questi anni tutti questi cartelli 30 anni di cartelli stradali anche i triangoli i triangoli è chiaro con quelli ci puoi fare gli sgabelli mazza mi pare che si fa da solo puoi fare la sedia di Game of Thrones anziché con le spade con i cartelli stradali ci può stare complimenti per la maglietta bellissima bellissima la maglietta è piaciuto è piaciuto anche il presidente ufficiale anche sta una mi tocca taglierla se no come minimo mi denuncia si fa pari con la maglietta Stefano si era preparato una domanda ho questa domanda che però come stai? domanda di riserva sto a pezzi sto a pezzi sì dai ieri stavo stressantissimo io qui ho delle pillole se vuoi me la portate a voi no 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 delle pillole che l'ho riportato dagli Stati Uniti Stefano è sempre stanco ma a base di è caffeina che non ho problema però sapere almeno non credo non credo siano non credo siano pillole credo sia un liquido è un liquido è un'americanata cazzo c'ha il popper sembra vero? è un vecchio troiaio del popper sembra il popper allora perché parlo del popper? perché Firenze che oggi è diventata effetto Venezia si è svuotata ci sono più fiorentini questo lo tengo qua sai vai vai però quando ancora era a Firenze aveva mezzo milione di abitanti tipo Bologna è stata la prima città d'Italia ad avere un locale gay ok? in piazza Signoria che si chiama il Tabasco e al Tabasco già negli anni 70 si trovava il popper che erano quelle boccette di vetro un po' più piccole di questo dove c'era dentro questo troiaio di acido che si sniffava che ti mandava di fuori per 5 minuti non capivi più un cazzo ridevi con imbecille in mezzo a piazza della Signoria cascavi in terra che veniva da San Francisco perché i gay di San Francisco lo usavano per fare l'amore nei momenti topici diciamo ma io posso raccontarti la mia esperienza col popper a me mi durava 15 secondi vedevo tutto nero mi venivano le palpitazioni mi sembrava tipo di svenire quindi dopo un po' ho detto sai che c'è esatto e poi il giorno dopo era una chiave si 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 beh se facevi proprio tanto popper però era sempre più una cosa così adolescenziale comunque uno sballo dai tre o quattro volte tu lo fai dopodiché dici o sei scemo o ti vuoi rincretinire fino a che non capisci più niente oppure ti garba anche fare altre cose certo è chiaro quelle sono sce è certo è certo Stefano c'hai l'altra domanda eh sì che hai fatto oggi lui è così allora oggi non ho suonato quindi bene no sinceramente mi è mancato di non suonare perché è bello suonare soprattutto quando siamo tutti insieme però ho fatto un po' di promozione con Alborosi è uscito questo singolo nuovo che è vai scusami sì sì Alborosi è apro una parentesi dai tanto siamo qui a parlare vai vai è un proprio un tipico cervello in fuga dall'Italia perché lui è cantante reggae che negli anni 90 aveva iniziato con una band che si chiamava Reggae National Ticket ai tempi di Africa Unite Pittura Fresca sì Pittura Fresca Pittura Pittura Fresca Pittura Fresca Pittura Fresca sì 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 non è un programma Pittura Fresca no chissà se magari è anche un programma che cazzo sto dicendo lo sai che sono sbarellati quelli di Venezia quelli di Papa Nero eh sì sì Pittura Fresca e poi c'era tutto tutto il momento delle posse no? 99 centri social insomma lui mi ha raccontato che aveva fatto un contratto con una etichetta di Napoli la Flying Records che aveva fatto messo sotto contratto varie band del periodo vendettero qualche migliaio di copie non tante però comunque vendettero qualche cosa e la casa discografica non gli riconobbe nemmeno un centesimo di royalties quindi disgustato da questa esperienza ha detto ciao Italia e se n'è andato a Kingston in Giamaica eh a fare eh le pulizie a fare il T-boy come si dice negli studi di registrazione i grandi studi dove hanno registrato i grandi della musica reggae mondiale piano piano ha fatto capire il suo valore e oggi è diventata una star mondiale del reggae quindi c'è una parabola pazzesca cioè una ascendente incredibile quindi oggi abbiamo scritto questa canzone insieme che si chiama Musica Libera e la stiamo un po' promuovendo per fortuna è molto divertente stare con lui perché è una grande oltre che un talento musicale vocale pazzesco anche di scrittura è anche una persona estremamente simpatica ma e l'avevi già conosciuto cioè già vi conoscevate o vi siete trovati negli anni 90 ci eravamo incrociati in qualche occasione anche se ero e rimango comunque ero più in contatto con Africa Unite che sono un po' più grandi di lui un po' più della mia generazione e ha anche dei capelli molto lunghi eh sì io dico che è il suo cervello in fuga perché sembra il cervello che gli asce fuori dalla testa è quello 5 chili di dread fate voi 5 chili 5 chili di dread capisci non riesco neanche a immaginarmi esattamente come la storia delle sette donne a testa è così lui ha tutti i capelli miei e di tanti altri anche qua ha pure i miei come avere un gatto attaccato un grosso gatto un bambino un bambino sempre un bambino peloso che sei gatto palla di pelo tra i capelli tra l'altro come fai da adesso io sui capelli come fai a farti venire quei capelli là e a tenere ma io credo a un certo punto mi è venuto anche a me era una festa con la banda Bardo a Firenze e si erano formati da poco il Ricketts mi aveva invitato a casa sua e diciamo che mischiavo molti alcolici poi vabbè dai si fumava anche un po' di erba non faccio un certo non mi vergogno certo a dirlo a un certo punto c'era una grossa anguria dove era stata fatta la sangria e a un certo punto della festa me la sono messa in testa vabbè era finita tranquilli abbiamo sprecato però ecco l'ho tenuta tutta la sera ballavo come un matto e poi siccome io mi lavo i capelli una volta all'anno sono peggio di erasta sì peggio di erasta mi è venuto un dread enorme a un certo punto mi è venuto qua al centro una bestia solo che mi rompeva un po' i coglioni macchina appoggia la testa il cuscino l'ho tagliato ce l'ho ce l'hai colleziono anche dread miei anche dread sei a uno eh però dai però intanto ce l'hai è uno di uno collezione completa per essere un ex punk è sufficiente posso chiederti una cosa appunto da ragazzo senza capelli questa cosa del lavarsi i capelli una volta all'anno come funziona? usi lavi solo con l'acqua normalmente poi una volta all'anno gli dai una botta di sciampo e chi mi piace da mettere napalm non ho capito e poi invece una volta all'anno dici faccio shampoo e balsamo se me lo ricordo sì se no passo all'anno dopo no però mi devo stressare per lavare i miei capelli ma sei di fuori no no però è bello perché funziona c'è gente si lava cinque volte a settimana c'è l'emergenza idrica oh cinque volte a settimana chi è che siate onesti chi è che si lava i capelli tre volte a settimana più uomini più uomini che donne ma veramente ma te non c'hai un pelo in testa cretin no scusa rialzate le mani tre volte a settimana è tanto eh ragazzi c'è emergenza idrica quattro volte a settimana te vorresti alzare la mano sì o no cinque quattro cinque là abbiamo un cinque comunque mi sembra di capire sono più gli uomini che si le lavano ma perché oramai i capelli per gli uomini sono uno status sono una roba complicatissima e chi è che si le lava una volta all'anno vabbè ok nessuno io senti te quanti io forse tre ecco all'anno o al mese a settimana ma posso chiederti una cosa posso toccarli a Firenze c'è il giochino ti posso toccare ma vaffanculo ah no no io non volevo fare questo posso? no mi pagate apposta io non te lo chiedo perché non sapete che cosa momento fetish momento fetish non ci facciamo mancare niente no no c'è chi piace effettivamente questa cosa di toccare quindi quindi tu li lavori una volta e poi dici basta e no dico i capelli sempre e dici cioè quando c'è un giorno preciso in cui li lavi oppure quando capita si andava in fissa si i ala che è acido lui è tremendo ma i ala più silenzioso ma è quella è implacabile dovrebbe essere il primo giorno dell'anno e se lo salto passo all'anno dopo ok ok capodanno quindi un giorno per me è stressantissimo posso farti una domanda però sempre su questo tema sto saltando da un paio d'anni però è impazzisco perché funziona se me l'avessero detto magari anch'io adesso avrei ancora i miei capelli ma e questa è stata un'intuizione tua o ti hanno detto guarda che non serve e te li lavi tutti i giorni una scelta punk ok da quando ero ragazzo vedi ma e senti allora io andrei perché volevo fare se Stefano non vuole restare sull'argomento c'è uno shampoo in particolare anche col sapone ah cioè allora aspetta mi stai facendo venire a mente una cosa durante quella merda che è stata la pandemia che solo nominarla scusate si sa mai eh c'avevo il disco appena uscito figurati un casillino cioè tre anni di lavoro buttati nel cesso però i miei nipoti sapranno anche questa storia a un certo punto mi chiama Elio delle storie che ti fa oh Piero guarda che stiamo facendo una catena per un cazzo però tanto non c'era niente da fare eravamo tutti depressi bisogna bisogna fare una cosa che non faremmo mai per che alla fine succeda qualche cosa che non mi ricordo nemmeno più ho detto guarda sono talmente messo male che ti dico sai che mi fa uno shampoo però era tutto chiuso sti cazzi io a casa mia che c'ho lo shampoo che ci vuoi con lo shampoo fa la muffa e allora mi sono inventato uno shampoo col sapone di marsiglia grattugiato e un po' di avocado non era malaccio non era malaccio cioè è ancora lì che mi guarda ogni tanto che vogliamo fare mi fa ti aspetta non so se metterlo in frigo magari si conserva meglio sono passati tre anni ormai quindi forse no i prodotti miei non hanno scadenza ah ok ok e nemmeno preferibilmente prima di e allora non vi lascerei lì ma sì 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 non ha fermentato sta ancora là non ha messo su radici non c'è una pianta di avocado è venduta una bellissima schiuma sì sì erano un po' duri alla fine i capelli non era proprio ecco vabbè però poi il balsamo non so nemmeno che l'è mi hanno detto ma il balsamo l'hai messo no cos'è tipo l'ammorbidente chi usa l'ammorbidente il balsamo o l'ammorbidente ammorbidente in lavatrice sti cazzi ma ve le fate da soli le lavatrici sì complimenti l'ammorbidente eh sì questo sconosciuto cioè un prodotto io l'ho implementato negli ultimi tre anni devo dire la verità l'hai scoperto? sì l'ho scoperto è stato introdotto nella mia vita dalla mia ragazza ho detto metti pure questo ma come non metti? eh sì e io subito chiedo scusa però ogni tanto mi scordo e non glielo dico se ne accorge se ne accorge perché è duro eh questo mi dispiace ogni volta dico è tignoso è cartavetroso il prodotto e io ogni volta spero se non se ne accorge ho vinto io invece se ne accorge e perdo che cazzo l'ha inventato l'ammorbidente scusate una massaia una massaia per forza o qualche chimico di qualche multinazionale malvagia sì comunque roba chimica sì io ne uso il meno possibile quello è poco ma assicuro io non mi odiare io metto anche quelle perline per profumare profumare gli va ma la perlina si scioglie penso di sì penso che si sciolga come pensi di sì è bella che vedo cioè penso poi non c'è più nel senso quando poi ritiri sì sì non c'è più non c'è più si è sciolta si è sciolta però profumo è tanta chimica che va nell'ambiente eh sì io sono un po' fissato lo so sono scassa cazzi no però perché mi guardi è giusto no no hai ragione però no potresti fare la tua linea di ma scusa ma come cazzo hanno fatto per 12.000 anni gli uomini senza l'ammorbidente puttana Eva no è giusto guarda sono d'accordissimo con te una vita di merda come cazzo abbiamo fatto arrivare fino ad oggi senza l'aria condizionata come facevano no no hai ragione su tutti i fronti poi subentra una sorta di pigrizia c'era più sopportazione sì sì e posso farti una domanda su ieri sera il concerto del primo maggio ti si è divertito? sentivo la merda sentivo la merda purtroppo non mi hanno acceso l'auricolare no era acceso però non sentivo la chitarra che normalmente servirebbe per godere e per intonarsi e le tastiere che servirebbero anche quelle lì per godere quindi sentivi solo le percussioni dal vivo ma sì sentivo la batteria il basso è completamente distorto non ho capito un cazzo non capivo nemmeno la tonalità infatti mi sono levato l'auricolare ho infilato l'orecchio dentro al Marshall e ho degli acufeni senza aver capito un cazzo perché mi sa che infatti mi girano i coglioni oggi perché non ho avuto le palle di dire ferma la baracca rifacciamo sto suono scusate a casa scusa Italia scusa mondo scusa Mattare e rifacciamo il pezzo dall'inizio perché non mi sembrava educato nei confronti dei lavoratori e quindi mi sono incazzato come una bestia però non hai spaccato niente sul palco c'è parte di coglioni certo certo un professionista ma perché poi poi mi sono divertito ho arrivato a Albo abbiamo fatto il pezzo insieme abbiamo fatto il diavolo ok rock and roll beh perché poi alla fine infatti quelli old school mi hanno detto vai grande hai spaccato ma faceva cacare no bello si è capito che eri in difficoltà però hai tirato fuori i coglioni hai reagito bene e dico sì però appunto in realtà non godi ecco perché dai cazzo quando fai musica poi senti bene ma il bello è stato che ecco qua lo fanno non ci fare caso li rompono avete la rumoristica la sera prima alle prove abbiamo fatto c'era un suono pazzesco bellissimo tutti yeah domani si spacca il culo vai ieri sera testa di azzo hai sbagliato te no hai sbagliato te no te fai cacare no era il fonico no sei te che fai schifo sembra ad essere nell'83 ecco non nel 2023 che cos'è che va storto cioè che perché uno fa le prove e poi si mette in moto una macchina talmente lunga che quando arriva il momento tuo ieri c'erano 50 artisti capito i fonici i poveracci alla fine erano sparpolati si è capito per questo anche non ho voluto infierire però effettivamente c'era da fermare la baracca e dire alto però dici anche per tutte quelle anime pie che erano da 15 ore sotto il diluvio universale no vabbè allora se un pezzo suona bene si divertono tutti di più perché si sente bene come uno che parla e invece se parli dentro il microfono come voi mi avete insegnato certo stasera cazzo si sente anche in fondo ieri tra l'altro come concertone pioggia è un grande classico la pioggia al concerto al primo maggio però ieri proprio implacabile c'erano delle persone in prima fila che si sono fatte 10 ore proprio di tsunami veramente eroici chiaramente l'età media era 18 eh no si perché se non le fai a 18 anni quelle cose già a 21 sei troppo in là no a 21 già ti incartapecorisci ti portano via con la barella si si stai là con quelle birre tiepide della mattina ma si ma ti vengono queste canne di fumo proprio ma ti vengono le grinze sui viso come sulle mani dei bambini si si veramente quella roba lì diventi un grinch un coso uno dei personaggi dove filma una prugna si una prugna esatto bravo però è siccata è siccata ma bagnata c'è uno stato indefinibile indefinibile e così erano ideale per lo shampoo anche questa come mi stai dando un'idea però la prugna attenzione attenzione te sei un diavolo perché la prugna è dolce c'è lo zucchero ah e ti si incontra mi ritornai dread poi eh certo allora no e poi il secondo dread tac e so due già solo che dopo il secondo dread non c'è più niente a quel punto c'è passato in Napalm praticamente ma lo sapete che l'Italia ha la più grande riserva mondiale di Napalm sapete cos'è il Napalm la gente orange era quello che gli americani sparavano nella giungla vietnamita contro i Vietcong nella guerra appunto dell'Indocina quando subentrarono poi ai francesi finita la guerra gli americani figurati se l'industria bellica aveva calibrato la produzione di Napalm precisa per una guerra che sarebbe capito sarebbe durata come un gatto sull'Aurelia si dice e quindi c'era una grossa sovrapproduzione dove è finita quella grossa sovrapproduzione? da noi? certo e scusa e perché che motivazione avevano a dire oh ma sto Napalm eh sovumamo invece no perché l'hanno prima smollato a Comiso in Sicilia nella base americana salutiamo gli amici di Comiso ciao amici di Comiso no ma perché loro cioè gli americani si sono totalmente liberati del loro veleno devastante che è il Napalm e queste migliaia di bidoni forse anche in Apocalypse Now si vedono questi bombardamenti del Napalm questi bidoni che cadono e si incendia tutta la foresta vietnamita no? ora sono stoccati a Capoteolada Sardegna ovest sud ovest nella come si chiama quella zona Iglesienta dove c'è là il poligono di tiro la Sardegna è la zona d'Europa più militarizzata più bombardata d'Europa perché è piena di poligono di tiro c'è Capoteolada c'è Perdas de Fogu che vuol dire pietre di fuoco dove vanno tutti gli eserciti che pagano qualsiasi esercito a sparare qualsiasi tipo di bomba quindi compreso l'oragno impoverito l'unica cosa invece è mancato il fungo atomico perché sono aree piccole ma se avessero potuto gli avrebbero dato pure quello quindi l'industria delle armi dai tranquilli che prospera da decenni sulla terra di Sardegna e noi ci siamo comunque questo napalm abbiamo detto lo mettiamo via sta tutto a Capoteolada stoccato lì sto vecchio napalm speriamo che anche il napalm non abbia data di scadenza a sto punto ma è più che altro che i bidoni non si fuori che ne incomincia percolato tutti i soliti problemi quando ci sono questi grossi veleni quando ci sono queste armi speriamo speriamo veramente siamo partiti dal primo maggio allora Joe dove è la telecamera? guarda ce n'hai una dritta davanti a te mi senti ciao Joe l'uomo dalla pelle è corta ricorda quando vuoi c'è il napalm che ti aspetta in Sardegna e te lo riporti a casa grazie te lo stiamo a tenere messaggio per gli Stati Uniti per Joe Biden prossimo ospite Joe Biden che verrà ospite del podcast gli lascio un messaggio sì sì lo lasciamo o per il napalm messaggio sospeso arrepia per napalm arrepia per napalm senti invece un'altra cosa sul primo maggio il concerto rispetto perché chiaramente ieri non era la prima volta che faceva il concertone come come è cambiato cioè è cambiato fare il concerto del primo maggio il concerto del primo maggio il pubblico del concerto del primo maggio cosa si dice i messaggi che porta ti sembra si è cambiato chiaro chiaro è cambiato da 30 anni a questa parte è cambiato il mondo quindi sarebbe una follia se non fosse cambiato anche il primo maggio a cominciare dal cast che naturalmente comprende molti più giovani emergenti mi sono andato a fare i Dehano si dice ma è giusto che sia così insomma e che abbia anche tutta questa diciamo varietà di genere insomma viva la biodiversità guai se non fosse così tecnicamente allora se devo dire le prove da paura ragazzi dovevate esserciare le prove cioè siamo entrati sul palco attaccato i jack hanno aperto cose si sentiva da paura ha detto no ci posso credere spettacolare wow ieri sera la merda per cui in questo caso è sempre il primo maggio infatti questo ti volevo chiedere 30 anni fa cioè se guardo il quadro completo è sempre il solito per il primo maggio che alle prove senti bene e poi dal vivo perché faceva James Brown fa venire i tic era da battaglia il primo come concerto era da battaglia anche 30 anni fa cioè nel senso era sì però sai 30 anni fa avevamo meno esigenze e comunque 30 anni fa non avevamo i computer i campionamenti tutte ste pip insomma alla fine voglio dire i Bandidos sono comunque un gruppo che si basa principalmente sul trio basso chitarra e batteria pazzeschi e li voglio anche nominare il look mitraglia la batteria Black Dado al basso e il grande mister Petus Finax alle chitarre che è il chitarrista della banda Bardot tutti grandi amici persone fantastiche grandissimi musicisti in più c'è il tastierista che è mister Voodoo che si è aggiunto da pochissimo ma la mia ossatura musicale per fortuna si basa sul trio quindi per fortuna ieri l'abbiamo sfangata anche così insomma cioè l'anima del rock and roll alla fine ha vinto su tutte le spighe tutte le stanchezze del mondo però eravamo un po' in bilico sull'impalcatura ma vai stai scusami ma degli altri che hanno suonato chi ti è piaciuto ma infatti perché da dietro si è hanno suonato in pochi veramente c'era tanto half play perché questo si capiva chiaramente però di nomi i ganzi ce ne erano sì sì c'è un principio di demenza per cui sui nomi ma da sempre mi è piaciuta tra i ragazzi del concorso del primo maggio Etta una ragazzina alta piccolina carichissima con un look molto stile manga veramente ganza e infatti la inviterò durante il mio tour quest'estate che è quella che ha fatto mi faccio le pare mille pare mille pare brava sì sì brava tra l'altro l'avevo già conosciuta a Sanremo Giovani chiaramente essendo un rincoglionito non me lo ricordavo ti ricorda Sanremo Giovani a sì meglio ora però meglio ora infatti ora me la sono ricordata e ce n'erano anche altri che anzi quello della giornata di merda non so i nomi adesso mi sono ricordato il titolo uno dei primi mi sfugge la giornata di merda forse me lo sono perso anche tanti altri l'azza l'azza è fortissimo e che c'erano tante basi ormai tutti arrivano tutti con un botto di basi sentisti i suoni come cazzo fai a fare cioè è fisicamente impossibile che una corda ti faccia con le basse pazzesche e nonostante tutto comunque con con Black Dado stiamo facendo un grande lavoro di rock però un po' più elettronico ecco non mi ricordo gli altri nomi cazzo no va bene ma invece qualcuno se lo ricorda qualche altro nome ditelo anche voi fulminacci fulminacci bravo anche aurora poi vai vai fatemi fare un figurone tanto le vostre voci non si sentono poi savana funk savana funk fortissimi savana funk ecco aurietta geolier si ragazzi c'era un terzo dei nomi mai sentiti cazzo c'era un boato di ragazzini ariete 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 bravo anzi ieri mi è piaciuta non mi aspettavo un set così anche un quasi diciamo rock via bellino e beh vabbè tantissimi nomi tantissimi ma da dietro si sente cioè dal backstage riesce a sentire riesce a godere perché insomma non si sente granché da dietro onestamente non si affisce un cazzo ok no perché lo sai è una questione proprio di fisicità del suono le acute vanno direzionali se tu direzioni una cassa così le acute vanno di là se la direzione è di là le acute vanno di là le basse invece si muovono circolarmente come questo tavolino ad esempio si espandono come il sasso nello stagno quindi te se stai dietro all'impianto senti solo le basse che cazzo vuoi capire quasi niente ecco diciamo ma invece senti Mattarella ha detto qualcosa della tua maglia allora intanto da oggi si chiama Mattarock giusto anzi da ieri sì ma è arrivato un messaggio del suo ufficio stampa sì e non era non era non era un messaggio di guerra già questo in realtà mi ha chiesto una maglietta vabbè ho capito se per lui o se per il press ah vedi però bellissimo io ne le mando due magari finito il secondo mandato comincio a metterla gli dico che misura vuoi così magari si intuisce un po' che misura ci avrà infatti che c'è ora Mattarella secondo me una M una M la M di Mattarella sì sì c'ha una M una M M ma certo sarebbe bello se non ce l'ha lui la M è certo un messaggio di fine anno con questa maglietta sarebbe bello bellissimo l'ultimo messaggio di fine anno prima della fine del mandato lo fa con questa maglietta e dice tutto quello che pensa avete rotto il cazzo da mo' di presidente cosa ma io mi preoccuperei piuttosto di chi ci sarà dopo di lui ecco ecco però passiamo subito ad altro sì meglio non ci imbruttiamo oh fa un cazzo di caldo qua sopra ma te con quella felma io non me la posso togliere perché mi sento nudo altrimenti ma c'hai la pelle gialla no no è la maglietta però tu mi fai caldo a vedere c'è anche un'altra maglietta c'è anche una sotto apri lontano no lui è così lui è così me la apri un po' di più sì lentamente Stefano è così e fa il timido ma poi no è tremendo è tremendo l'ha tenuto d'occhio sono l'acqua e rete le classiche senti ma adesso invece tra un po' parti invece col tour tuo dove c'è i soundcheck le cose ci sarebbe un tour ci sarebbe un tour che parte quest'estate che parte il 7 di luglio 7 di luglio fino a due mesi fino al 7 di settembre suonerò tutta Italia con i bandidos stiamo facendo le prove verrà tutto molto meglio di ieri sera ve lo giuro e sarà una bomba atomica perché ci stiamo divertendo come dei mate al di là di quello che è successo ieri però non ci siamo ancora separati quindi dovremmo farcela ma infatti comunque adesso sembra un luogo comune però sei carico per questo tour e comunque di tour ne hai fatti tanti e invece dici oh dai pure quest'estate mi sparo il tour cioè sei contento di questa cosa perché io e Stefano per esempio dice che rubo lavoro no no zero è che io e Stefano che di tour abbiamo fatto forse 40 per l'idea dopo 40 anni ancora a suonare ragazzi io non posso fare altro altro è venire qui a sparare due cazzate e suonare e quindi dici perfetto poi chi vuole viene chi vuole è vero è un po' come la questione no cioè il diritto di abortire non è l'obbligo di abortire il diritto di andare a un concerto non è un obbligo di andare a quel concerto il diritto di andare a un rave non è l'obbligo di andare a un rave quindi non si capisce perché c'è certe proibizioni sono sono d'accordissimo proprio sul rave è partito l'applauso hai capito alla fine gliel'ho strappata la mutanda pubblico idrogatico sul rave ma cioè nei concerti comunque io ti dico alla fine ti lascio in mutande allora va bene preparati perché lo fa ho le mutande con Bart Simpson ho un ho qui c'è la sua faccia aumenti la nostra curiosità sarà vero non sarà vero è vero ma sono degli slip o dei boxer boxer ok davvero uomo certo è da lì che si misura proprio dalla mutanda ma tipo quando fa un nuovo concerto riesce a metterci delle canzoni nuove oppure c'è il pubblico che vuole solamente quelle vecchie questa è un'altra delle questioni tormentate di quando si fa la lista dei pezzi per un tour allora non posso dire purtroppo però ci sono tantissime canzoni che il pubblico pretende perché a pagare il biglietto e vuol venire lì si può cantare quelle canzoni e non glielo puoi negare qua ci sto diritto quindi se tieni conto che ho fatto 20 dischi come minimo di studio tra Lit Fiba e Solista che in ogni disco c'era metti anche solamente una canzone a disco decente siamo già a 20 una scaletta su un 21 ce ne sarebbe un po' e allora comunque dai ne preparerò più di 30 e poi farò minimo due scalette a rotazione cioè una sera una una sera un'altra anche per lasciare spazio appunto a più canzoni e poi siccome ci sono anche tante persone che si fanno più di una data almeno dire ah cazzo quella sera lì ha suonato questa e quest'altra serie non ha fatto un'altra insomma un po' così però ecco sì diciamo che ci sono quelle 18 che se non le fai c'è la mamma maiala ma figliamo ma fai quelle cose che ti butti sul pubblico oppure no dipende lo percepisci anche perché onestamente è un sacrificio fisico farlo anche lì non è che c'è l'obbligo eh no certo certo stia cazzi certo il biglietto comprende il concerto il suono le luci la presenza ma non il tuffo sul pubblico cioè poi quando ci sono quelle serate pazzesche che c'hai l'adrenalina a mille e non capisci più un cazzo ti tuffi poi però se ti incrini le costole eh ma infatti c'è mi so sempre stai di merda per una settimana che devi cantare girare dormire respirare perché ti fa male anche respirare ci pensi un po' ecco di solito all'ultima data si fa ok perché dice se mi spacco tutto sto una settimana di merda perché già c'hai la depressione post tour tutte quelle cose lì ti scende l'adrenalina tutte a dire sono testa di cazzo sei sparito non ci sei mai questo dal giorno dopo il tour sei sparito e tu non hai no quello è un light motive che accompagna la mia vita da quando ho incominciato a fidanzarmi ecco ora le mie figlie sono più grandi per fortuna la più piccola ne ha 18 poi un'altra 28 e l'altra 33 e quindi diciamo che al limite ancora un po' con la 18 che comunque mi manda a fanculo ogni volta che le rivolgo lo sguardo rivolgo proprio lo sguardo cazzo guardi sono il tuo babbo ti potrò guardare che amadosca ma tu cioè quindi appena finisci il concerto c'hai questo senso di vuoto cioè l'ultima data dico insomma di solito sì dai quando finisce una tournée lo sapete anche voi che io sono contentissimo cioè mi riposo finalmente invece tu sei liberazione ma diciamo quando le tournée sono state belle c'è stata armonia fra tutti è un peccato smettere perché dai in effetti la gioia che ti dà condividere la musica sul palco con il pubblico insomma tutto questo scambio di energie pazzesche è una cosa assolutamente unica quindi effettivamente ti ci abitui anche dai è una droga via ma perché questa anche per il tuo cazzo di ego diciamo ammettiamo sì sì beh no certo comunque fare un ego fare i concerti gli spettacoli il mio ego lo cerco in un pagliaio nell'ultima canzone l'ego nel pagliaio ma perché sai qual è la differenza è che tu comunque sei in tour con altre persone sei sul palco con altre persone è una cosa condivisa come dicevi tu è una condivisione di energia noi siamo in tour da soli e dopo tre mesi che stai da solo in treno da solo sul palco da solo dopo un po' dici vabbè pure basta ma voi da soli nel senso tu fai il tuo tour e tu fai il tuo sì sì abbiamo spettacoli non siete insieme no no pensavo foste una coppia non ti sensi no no monologhisti monologhisti poi andiamo in giro da soli stai da solo in treno da solo in albergo da solo sul palco e dopo un po' ti voglio solo ritornare a casa sì 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 esatto quindi dopo un po' dici vabbè basta sono contento quindi il 10 al Puccini devo venirti a trovare il 10 al Puccini guarda a Firenze il teatro di Firenze vieni che è un bello spettacolo secondo me se ti va secondo me è un bello spettacolo parloci del tuo spettacolo guarda non è male scusa mi ripeti il titolo crossover perché sai tu mi insegni il titolo dello spettacolo come i titoli dei dischi te li chiedono troppo tempo prima di quando tu sai quale sarà il titolo quindi gli devi dare qualcosa sei già multato sì sì esatto già a parto però lo spettacolo le persone finora si sono molto divertite io pure se vuoi venire il 10 non posso spoilerare cazzo vuoi di più esatto basta che ho già fatto a Firenze bene ragazzi è stato bello tornate quando volete a parlare dei vostri spettacoli io vi aspetto vi aspettiamo abbracciapette un applauso per favore tanta merda tanta merda grazie grazie mille grazie averci invitati è stato un privilegio condividere il tuo podcast con noi siete stati bravi anche con i microfoni devo dire grazie grazie l'abbiamo tenuto abbastanza ero un po' preoccupato ma ti posso dire una cosa sulla Sicilia a proposito perché ho letto che tu sei stato bandito dalla Sicilia a un certo punto è vero perché avevi fatto avevi parlato della P2 se non sbaglio in relazione con no 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 avevo parlato della P3 ah la P3 sì perché ora nei primi anni dieci di questo millennio di questo seo c'era stato c'era stato vi ricordate un momento in cui Dell'Utri Berlusconi erano stati coinvolti in uno scandalo tipo di una loggia tipo appunto la P2 ricostituita una cosa del genere e ora sto dicendo molto a braccio in realtà non mi ricordo molto bene è un concerto a Milazzo o giù di lì mi era venuto in mente di fare una bara con delle case da chitarra insomma da amplificatore scrivici sopra P3 non mi ricordo se ci avevo scritto anche il nome di qualche politico il fatto sta che il giorno dopo l'assessore alla cultura siciliana tale Dali Dali eh lo sa infatti si sprecano e disse bene Piero Pelù ha fatto questa battuta non suonerà più in Sicilia e effettivamente fino al 2014 che Taobuc mi ha invitato per presentare il mio libro e dove ho voluto portare anche un paio di musicisti per suonare nel teatro antico di Taormina io per quattro anni non ho messo piedi in Sicilia ora il padre di credo spero di non dire cazzate però un omonimo di quell'assessore ecco facciamolo ho detto un omonimo di quell'assessore di allora pare si dice che sia coinvolto in qualche modo nel questo grande minestrone che vagamente casualmente incidentalmente e deve essere chiaro ok ho già avuto abbastanza problemi abbia così respirato respirato la stessa area della zona geografica di Matteo Messina Denaro sono stato abbastanza vago certo niente di personale ok e probabilmente non è nemmeno il nome giusto quello che ho detto è il nome poi mi rifacevo la domanda come funziona come funziona tu volevi andare lì a fare lo spettacolo e ti dicevo no non puoi no non ci hanno proprio più invitati né me personalmente né l'Eleciva quindi è proprio ostracismo totale fino appunto al 14 che Tauvuc mi ha richiamato piano piano siamo tornati comunque non è bello quando ti dicono tu non tornerai mai più in questa terra e effettivamente non ti chiama più nessuno sa molto di dittatura questa roba infatti bruttissimo mi ci sono trovato anche in questa storia ti posso dare un'altra domanda relativa però stavolta alla P2 al prequel cioè cioè la sì la serie l'originale sì tu a un certo punto sei andato a casa di Licio Gelli ma come è successa questa come ti è venuto dice vado da 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 Licio Gelli ti faccio non è per girarci intorno tu quando vai a casa sua che fai e glielo dico arrivi su suoni il campanello però io l'avverto vabbè sì io non c'avevo il nome di Gelli onestamente per cui sono andato a casa sua suonava il campanello lui t'ha aperto questa cosa mi lascia perché mi hanno aperto non perché sono Piero Pelù perché c'era insieme a me il fotografo Alex Maioli che ora è diventato il boss della Magnum Photo a Parigi che allora avevamo fatto per terremoto tour un libretto fotografico bellissimo in bianco e nero con 99 foto e era nata anche una grande amicizia siamo stati in Brasile insieme abbiamo fatto dei giri pazzeschi Meninos de Rua storie colla bambini di 7 anni 4 anni che sniffano la colla altro che il popper al tabasco insomma storie veramente violentissime bellissime indimenticabili e nel terremoto tour fu il 93 nel 95 c'era Spirito Tour quindi dissi ho in mente di fare un documentario su questo tour dove però noi sul palco non dobbiamo comparire va bene quindi si vede noi off stage così si può dire nemmeno backstage proprio in macchina all'autogrill sono cazzo a fare feste e e quindi avevo bisogno di storie da raccontare eravamo a fare le prove ad Arezzo lo so che sono palloso però insomma cerco di farmi un po' no no è bellissimo fa la sporta di Arezzo vuoto un suono di merda primo maggio in confronto è una meraviglia e ciao primo maggio Gigo faceva le prove della chitarra tre giorni di prove della chitarra una roba da diventare matti mi sono inventato due cose ho svuotato un televisore portatile e ci ho fatto tele litfiba tele corno cuore ci ho messo un televisorino portatile anni 70 l'ho svuotato cioè proprio nel video si vede mentre lo smonti poi me lo infilo in testa e quello doveva essere la concorrenza che faceva le tv di Berlusconi vabbè non ha funzionato molto però ho vinto siamo tutti figli di Silvio ricordate a un certo punto gli fa Alex dove mi sono rotto il cazzo sta qui a aspettare queste prove andiamo dall'Icio Gelli ma come andiamo si andiamo dall'Icio Gelli ma io lui fa cazzo ma lo sai che gli ho fatto un servizio fotografico ma porca puttana non ho mai detto nulla ma figurati se ti dico ho fatto un servizio all'Icio Gelli ma porca troia sì andiamo subito a casa sua lo carico in macchina e si va a cercare la famigerata Villa Vanda Vanda bravo sono un fan no scherzo bene si arriva a Villa Vanda si suona il campanello è tutto raccontato se vi capita di vederlo ma chiedo che su youtube ci sia Piero Fellulli Ciozelli si suona e chiaramente ho fatto parlare lui che cazzo mi presentavo e a dire sono Piero Fellulli Afri ti voglio intervistare sono Alex Maioli ho fotografato il signor Gelli ma male non ha detto il grande maestro e volevamo incontrarlo per fargli una piccola intervista silenzio cazzo si fa dopo cinque minuti ma sembrava un'ora fanno ok potete entrare e si aprono i cancelli di Villa Vanda e se entra dentro Villa Vanda c'erano un viale pieno di vasi con i limoni tipici toscani no è vero i limoni stanno nei vasi così d'inverno si mettono nelle limonaie questo nelle ville signorili perché se no fa troppo freddo poi si è scoperto che in quei vasi Licio Gelli ci aveva nascosto l'oro l'oro di Licio Gelli stava in quei vasi di limone meraviglia vabbè l'ho anche toccato uno però entriamo in casa va bene sembrava veramente la famiglia Adams ci hanno richiuso la porta alle spalle e ci hanno lasciato nell'atrio che era totalmente dark room siamo rimasti veramente preoccupati per molti minuti fino a che è comparso quello ed era veramente Licio Gelli cazzo in carne e ossa era sceso sia da dove avrà origliato quello che noi dicevamo e poi ci ha concesso questa intervista solo che ha detto non mi dovete riprendere e ha detto a parte che io non mi ero preparato nessuna domanda e cazzo di domanda Licio Gelli e dico ma allora Berlusconi Andreotti Lita eccoli l'Italicus le stragi posso mica andare così diretto mi vado a fare in culo capito per cui mi sono dovuto inventare delle domande abbastanza idiote non essendo un giornalista anche perché la cosa era nata per scherzo si va da gel si va a fare casino si va si va in concerto eravamo veramente nello studio di Giselli e lì Alex è stato geniale perché ha detto sentami scusi allora io non la riprendo riprendo un suo ritratto qui e lei parla e quindi ci sarà sentirete l'intervista a Licio Gelli con le mie domande davvero perfetto imbecille con Licio Gelli che parla gli domando di Berlusconi appunto di Andreotti tutte bravissime persone meravigliose e dopodiché 20 minuti e c'è grazie chi ti dovevo dire Licio Gelli non vi ho offerto niente meglio di no no anche no no magari no la limonata eh infatti la limonata ma e tipo lui com'era era un signore cioè sembrava un venerabile maestro oppure un signore no chiaramente come tutti i grandi Matteo Messina Denaro come è stato arrestato sembrava Pinco Vallino parteciava anche la finta dell'identità quello che mi ha colpito dell'arresto di Matteo Messina Denaro è che non gli abbiano nemmeno messo le manette questa cosa mi ha fatto incazzare perché uno che ha fatto quello che ha fatto lui deve uscire ammanettato con le mani dietro la schiena se vogliamo dare dignità almeno alle vittime almeno ai bambini che ha ammazzato no infatti io adesso avrei una domanda che torna su un argomento più più leggero almeno che Stefano non voglia continuare no no vai vai no allora c'è una cosa che poi io mi cupisco un po' quando viene tendo un po' a incazzarmi vabbè ma va benissimo qua puoi fare a un certo punto ti vuoi tirare una bicchierata perché ti ha rotto il cazzo Stefano stalla anche per questo prima lo spoglio cioè piano piano ce la faremo la casa com'era la casa buia 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 t'ho detto una dark room veramente ma buio non si vedeva niente e non è che fuori ci fosse un solo abbagliante per cui rimani un po' accecato dal buio no era anche brutto tempo fuori quindi era proprio totalmente buia beh sì sono stati momenti belli ma una certa tensione si sentiva poi ripeto gli ho fatto delle domande talmente stupide che in realtà che cazzo intervista era non era niente eh sì perché effettivamente cosa chiedi a Licio Gelli se non sei se non sei preparato a fare le domande a Licio Gelli ci voleva Santoro figurate se fa entrare Santoro Licio Gelli nel 95 sta scherzando lo sparava no nemmeno lo sparava lo scioglieva nell'acido lo scioglieva fa per ridere Licio no e poi lo metteva in un vaso di limoni e diceva qui c'è Santoro allora è una domanda che noi facciamo quando viene un artista un performer che ha iniziato a fare questo mestiere un po' di anni prima di noi a noi ci incuriosisce sempre un po' l'origine della sua storia artistica perché per ognuno è sempre diversa quindi io ti volevo chiedere quando allora i Litfiba sono dell'80 se non sbaglio a Firenze 1980 com'era la scena in cui da cui emergono i Litfiba cioè com'era si andava a suonare in locali andavate a dire oh noi qua c'era un giro di pubblico avete detto mo facciamo la band perché c'era una scena di riferimento dentro cui inserirvi oppure dal nulla dunque intanto va detto che Firenze negli anni dal dopoguerra in poi è stata una città liberata dai partigiani gli inglesi che sono stati i primi a arrivare a Porta Romana lungo la via Cassia avevano trovato già una città liberata dai partigiani dell'Oltrarno che hanno pagato con più di 80 vittime compresi i bambini e quindi Firenze è una città che si è sempre considerata diciamo una città molto molto aperta a tutte le idee progressiste possibili l'area fiorentina ecco c'è stato anche Don Milani vicino nei dintorni la scuola di Barbiana che è diventata un po' un simbolo della pedagogia popolare per tanti insegnanti poi che sono arrivati dopo e si sta parlando di un prete cattolico non di un comunista barricadero è uno che ha dato a tutti i figli dei contadini del Mugello la possibilità di studiare anche se le famiglie non avevano i soldi per mantenergli gli studi sono diventati ragionieri palignami insomma poi c'era a Firenze c'era la Pira che era un politico molto importante ma c'era anche poi tutto un movimento artistico e di cultura e di creatività che è andato avanti negli anni 50 60 il primo locale gay d'Italia appunto il Tabasco a Firenze Firenze negli anni 70 era Woodstock cioè andava in centro da piazza San Marco fino a Pontevecchio era una diciamo distesa continua di ragazzi suonavano le chitarre fumavano i cilum si scalavano acidi gente si bruciava anche il cervello però questo era un po' Firenze tanti intellettuali tanti pittori poi negli anni 80 c'è stata l'esplosione tutto quello che si era gli anni di piombo a Firenze si sono sentiti molto meno anche ad esempio rispetto a Bologna Bologna ha avuto un 77 violentissimo Firenze no era un po' diciamo un'isola felice chiamiamola così che ha favorito anche l'espressione artistica ecco è stata proprio un po' una culla e e quindi da lì da tutto quello che vi ho elencato ora e tantissime altre cose che la mia demenza incipiente non mi fa ricordare ma che che esistono nella storia della città hanno favorito sono state l'humus perché poi negli anni 80 Firenze diventasse un po' una capitale culturale a livello europeo però nonostante tutto io respiravo sempre aria di provincialità provincialismo di provincia e allora ho detto ai miei compagni ho detto sentite allora io ho un'amica francese che studia belle arti a Firenze si è mollata col suo tipo le ho dato il nostro primo EP guerra col quale vincemmo l'unica cosa abbiamo vinto nella nostra storia cioè il festival rock italiano qualche milione di anni fa e poi una cassetta con tanti provini questo ha detto io torno in Francia non ne posso più vuoi Torino mi ha preso per il culo mi ha portato i tossici a casa c'era tanta eroina anche a Firenze purtroppo mi ha portato i tossici a casa ha cambiato le chiavi di casa mi ha buttato fuori me ne torno in Francia e ti ho ferma se proprio vuoi tornare ti do questa roba guarda se riesci a organizzare qualche concerto in Francia bah buttata un po' lì a cazzo però di fatto lei è diventata la nostra manager in Francia e nel giro di sei mesi organizzò una tournée di sei date era fine dicembre e freddo bestia si partì con due macchine di merda una Peugeot e una Citroen ma cascana pezzi non so come sia stato possibile tornare a casa e tra queste sei date c'erano due festival molto importanti dunque suonammo a Strasburgo Noncy Parigi o Bandouche dove andava anche Prince a suonare a fare i suoi after hours e poi Rennes dove c'era un festival importantissimo Transmusical di Rennes e io parlavo molto bene francese perché l'avevo studiato a scuola e mi piaceva la cultura francese ma questa cosa me l'aveva trasmessa mia madre che si stava per laureare e poi non l'avevo fatto e quindi insomma avevo studiato peccato la grammatica francese che è tipo quella italiana complicatissima verbi irregolari eccetera e quindi io anche se noi facevamo New Wave in Fiorentina però io parlavo in francese col pubblico e questa cosa fu estremamente apprezzata dal pubblico e dalla critica per cui siamo diventati prima più famosi in Francia che noi in Italia poi la storia ha raccontato un altro tipo di percorso però ecco Firenze era fantastica veniva per Vittorio Tondelli c'erano Marta Graham che veniva a fare la sua danza contemporanea era veramente una fuscina pazzesca però credo di aver fatto bene così a uscire comunque anche da questa questa culla un po' dorata perché quando uno poi si croce là un po' troppo in quello cioè le comfort zone non hanno mai fatto bene a nessuno ecco noi lì eravamo un po' gli eroi nel vento però ho preferito salire sul vento e andare un po' un po' più lontano ci ha fatto benissimo perché poi abbiamo fatto tre album pazzeschi di Desparisito 17 Relit che sono stati fondamentali per la mia formazione e scusa in Francia invece a questo punto cosa avete trovato cioè com'era poi il movimento le cose come andata l'esperienza francese là che scena con che pubblico vi confrontavate e con che cosa abbiamo cominciato a suonare nei piccoli club per cui c'erano 200 persone la seconda volta erano 400 poi poi 800 poi 1000 eccetera quindi è stato un po' il passaparola perché poi alla fine sì io andavo a fare tante interviste c'era Claude appunto che era bravissima mi portava in giro a fare tante interviste e quindi io portavo un po' tutto il mio bagaglio di cultura italiana che in quegli anni affascinava ancora molto i francesi perché per tanti aspetti erano affascinate la cultura italiana c'era Paolo Conte in quegli anni che a Parigi riempiva lo Zenit il teatro della Villette in continuazione noi chiaramente eravamo molto ma molto più underground ci si divertiva tanto ecco sì tanto ci si divertiva sì 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 tanto tanto non mi chiedere nulla per favore non ti chiedo ma hai girato cioè solo la Francia oppure anche altri paesi esteri in quei tempi diciamo che i paesi francofoni sono quelli che ci hanno accolto meglio quelli anglofoni no assolutamente e secondo te perché cioè perché risuonavate per i francesi e non per gli inglesi perché comunque voi cantavate in italiano ma senti a me da quando mi hanno cacciato fuori a calci nel culo dal Marquis a Londra perché mi ero tutto tagliato perché ero più punk di tutti i punk londinesi naturalmente ho detto no bella la musica bravi Sex Pistols bravi Clash Pink Floyd Genesis milioni di gruppi però questa parte di mondo non mi appartiene più di tanto sono fottutamente latino quindi mi sono trovato benissimo in Spagna in Francia in Canada sì Messico Messico bene Messico benissimo vedi come fai a non star bene cioè oggi il Messico non ci tornerei ecco no a un certo punto ho deciso di non andare più in Messico perché avevo degli amici molto cari e nel Defe il distrito federale cioè città del Messico e tutti i gazzi musicisti un po' artisti un po' come Parigi appunto nei primi anni 80 dove avevo visto nascere anche la mano negra negra Svert Noir desir tutte band pazzesche e in Messico uguale avevo ritrovato quell'atmosfera però dopo un po' hanno cominciato tutti sono passati direttamente dalla marijuana e magari qualche pay hotel alla cocaina e al crack e gli ho detto va bene non è più la storia per me e ho dovuto abbandonare il Messico oggi il Messico è in mano al narcotraffico purtroppo infatti la domanda successiva ti volevo fare è una domanda ricorrente del podcast che faccio a tutti quanti gli ospiti perché io prima chiedevo a ogni ospite cosa ne pensasse della legalizzazione delle droghe leggere però ho smesso di fare questa domanda perché tutti mi danno la stessa risposta la domanda che faccio adesso a tutti quanti è che rapporto hai con la marijuana e in questo caso la volevo estendere anche alle altre droghe perché avendo vissuto tutto quel periodo in questi posti come ti sei confrontato con le sostanze nell'arco della tua carriera del tuo percorso allora sostanze in generale o solo psicologica allora la marijuana che rapporto hai avuto con la marijuana e questa domanda in generale e poi come è stato appunto vedere attraversare o fare uso non ho idea delle altre sostanze in una scena in delle scene che ci andavano un po' incontro e scoprivano anche il bello ma anche il brutto e delle sostanze più pesanti ma a me sono allora sulle sostanze super pesanti che io considero ad esempio l'eroina ma anche la cocaina ho fatto usi monodosici nel senso mi è capitato una volta o due poi ho capito che non era assolutamente il mio tipo di soprattutto l'eroina che comunque non ho iniettato avevo a una festa mi dissero che era lì di sta polvere bianca ho detto vabbè sarà cocaina era eroina ve la racconto tutta sì festa di carnevale ok vicino a via dei bardi dove c'era la cantina dell'itfiva oggi c'è tutto un murales firmato da tutti chiunque voglia andare lì lascia una firma lì vicino oh c'è una festa di carnevale che si va lì va bene vado con un'amica e a un certo punto mi fa dai 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 vieni in bagno vieni in bagno e chi c'è c'è un po' di che perché tira fuori sta bustina che roba bianca poi che lei devi vabbè sai vent'anni sei una testa di cazzo cioè qualsiasi puttanata la vuoi provare e come si fa questo gesto del cazzo inizio oh allora se vuole entrare in bagno eh va bene va bene vai si esce usciamo fuori dal bagno e ho avuto un rigurgito dallo stomaco che non riuscivo e non sono riuscito a trattenere eh il bagno era abbastanza vicino all'ingresso della casa io potevo davanti a tutti non è bello anche perché la festa era iniziata mica da tanto cioè dice alle due di notte uno sbocca dice vabbè sta deficiente no 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 devo uscire devo uscire apro la porta di casa tromba delle scale va bene ragazzi ce l'ho fatta ho sboccato e però c'era uno zorro e la fata turchina fatti secchi no pezzo chi è sto stronzo hanno incominciato a urlare e io per fortuna c'era un piano di sopra per cui dopo essermi liberato sono scappato al piano di sopra ho aspettato che loro entrassero nell'appartamento sono rientrato facendo finta di nulla ho preso il mio cappotto mi sono levato dai coglioni sono andato e ho detto va bene mai più questa merda poi va bene ce ne sono tante altre però ti posso dire una basta una zazzorra e la fata turchina tutta che è rimascherato ti lascio su questa domanda che devo andare un secondo vai vai vado in bagno per l'appunto auguri certo tutta è la birra la droga è inevitabile no è la droga questa ma lo fa per secondo me per lasciarti un po' di spazio libero è infatti è andato vai è andato è andato è andato oh finalmente finalmente come è già un po' più distesa l'aria anche te ti vedo più rilassato se poi mi spoglio secondo me stai sudando anche di meno in questo oh un applauso momento storico ce l'abbiamo fatta ma alla fine ce lo lascio in braga da che hai rimascherato sono curioso da quello mi riusciva più normale cioè come mi vestivo in quel periodo diciamo un lungo mantello nero tipo periodo era il periodo non sferato tipo però solo che anziché succhiare il sangue non sferato quello con Kinski di Herzog insomma con le musiche di Popol V io non so se nessuno conoscerà Popol V però era questo duo tedesco che la musica tedesca negli anni 70 è estremamente interessante soprattutto quella elettronica conoscerete credo tutti i Kraftwerk che sono dei maestri assoluti del genere elettronico un po' ballabile e invece Popol V erano la psichedelia tedesca pazzesca avevano fatto 20 album anche loro uno più bello dell'altro io ce l'ho quasi tutti e tra questi c'erano varie colonne sonore dei film di Werner Herzog Herzog è quello che ha fatto appunto uno sferato Aguirre il furore di Dio che è la storia dei conquistadores spagnoli in Peru che ha portato una troupe di 50 persone fino a Cusco a quanto cazzo sta a 3000 metri di altezza Cusco cioè lo hanno maledetto tutti l'hanno fatto anche dei ha fatto Fizzcarraldo tutti i film con Klaus Kinski insomma quel pazzo furioso grandissimo che non tutti conoscono tra i giovani però vi invito comunque almeno ad ascoltare Popol V Popol V significa la genesi nella lingua dei Maya e quindi c'era in quel periodo no poco prima era uscito uno sferato con Klaus Kinski Isabella Janie un'altra attrice strepitosa che era il remake di quello che era il remake di quello di Murnau ma hai visto che c'è anche non mi ricordo chi era il regista che hanno fatto uno sferato cioè era la storia di come veniva girato uno sferato solo che l'attore che faceva uno sferato era proprio un vampiro l'hai visto quello sì era tipo un finto making di un film di vampiri sì sì era era uno sferato cioè stavamo girando uno sferato quello di Murnau solo che l'attore era non era un attore ecco è bello seccava tutte un macello una carneficina sì sì l'hai visto? ma è un film di dieci anni fa giusto? chi c'è? De Foe? ah sì sì il titolo però bellissimo ma tipo può essere l'ombra del vampiro una cosa così può essere esatto ottima citazione ma tu qui si vola alti si vola alti mi dispiace De Foe è un amico se non sbaglio lui vive a Roma Piazza Vittorio parla benissimo l'italiano ah chiamiamolo non ci abbiamo mai pensato a chiamarlo si è sposato con un'italiana si si è sposato con un'italiana vive a Piazza Vittorio è pure vicino si si può avvenire in eculta quindi ero vestito ma nemmeno vestito ero per il periodo io ero quindi non hai però sentito gli effetti a parte il conato della droga a parte quel conato mi ricordo che ero in macchina con la tipa io mi andavo tutti a fanculo sono tornato a piedi diciamo da via di Bardi a casa mia erano 5 km ho detto sai che vai fatti una bella passeggiata e vattene a dormire per cui ho dormito la merda quella notte sì uno schifo infatti poi però tornando alla domanda di prima diciamo droghe leggere credo che si possa considerare la marijuana cioè proprio la pianta una droga gestibile se appunto conosciuta è dosata con intelligenza ecco certo i ragazzi si sa fanno cazzate io sono collassato un milione di volte ma non perché mi facessi chissà che cosa perché ho scoperto che ho la pressione molto bassa e l'ho scoperto quando ho cominciato a fumare io fumavo davo tre tiri boom cascavo in terra e ho capito poi che ho sempre mani e piedi freddi e quindi dice che campo di più davvero pressione bassa si campa di più ma dice o muoio di collasso oppure perché insomma il cuore pompa un po' di meno mi dicono che è quello che mi consente di fare degli sforzi così prolungati sul palco perché il cuore non va in affanno per ore e senti invece visto che tu ho una vita di tour e adesso ci hai raccontato di questo momento in cui hai vomitato a una festa c'è un'altra domanda ricorrente all'interno di questo podcast una rubrica questa rubrica si chiama cacare in discoteca e chiede chiediamo all'interno di questa rubrica il momento in cui proprio c'è anche cacare durante il podcast giusto? c'è anche cacare durante il podcast se devi andare che lui dice che va ancora non è mai successo per quanto ne sappiamo però prima o poi succederà c'è lo spraione pronto certo prima o poi e poi ti becchi a quel punto 15 minuti solidi di Rapone che Nosferatu l'ha preso la domanda dopo voglio proprio vedere in una vita di tour ti è mai capitato di dover andare in bagno nel momento sbagliato nel posto sbagliato in cui provostavi a dire Dio ti prego non adesso e invece era proprio adesso era allora che era adesso sagra del peocio che cos'è? laguna di Venezia che cos'è il peocio? la cozza può capitare la cozza sbagliata può capitare la cozza questo è un messaggio importantissimo e alla sagra del peocio ne avevamo mangiate assecchiate siamo saliti sul palco a rotazione poi a un certo punto ci siamo ritrovati a un certo punto eravate tutti molto più magri di prima ma anche in quell'occasione avevi il mantello perché può essere scomodo ero proprio smantellato guarda devo dire ci siamo smantellati tutti quella sera è stato infatti ce lo ricordiamo bellissimo grazie mille per fortuna erano ancora diciamo i Litviva primissimi per cui pensavano che fosse una performance guarda che ogni tanto uno se ne va cioè siamo saliti in cinque poi eravamo in quattro poi in tre poi due poi un altro è tornato poi uno di quelli che era rimasto è scappato pure lui insomma dicevano cazzo chi è Godot bellissimo poi sei scappato tu fa no guarda momento strumentale pezzo strumentale lunghissimo e c'erano gli strumentali e meno male poi a un certo punto abbiamo fatto un album che si chiamava Desapare Sido che vuol dire scomparso e quindi è ricapitato quindi dicevo parola d'ordine Desapare Sido e dovevano suonare quel pezzo lì perché era un pezzo apposta per per quei momenti tralascio i luoghi no no tralascio i luoghi a questo punto dice tralascio i luoghi ok prossima domanda prossima rubrica del caso sono quasi finite però così pensiamo che sia dietro la batteria però scusa perdona pensiamo che sia dietro la batteria se non ci dici il luogo come fai dietro la batteria stai schienzando Stefano lui è così no dai non è come la festa di carnevale dai vabbè vabbè rispettiamo la privacy Stefano tu perché se no io ho una domanda e poi andrei verso la chiusura perché se no diventa sequestro sì siamo no ho due domande due domande vai forse un po' meglio o sempre no sempre quella non ti è piaciuta sta rubrica ho mangiato le cozze posso andare un attimo una torna riallacciandomi a quello che ti stavo chiedendo prima dei film tu adesso che ti stai vedendo non lo so serie film certi vedi cose oppure no non c'è un netflix ok ammetto scrocco scrocchi buona scrocco non c'è mai avuto sky scroccato sky cioè questo va dagli amici capta oh c'è la partita vabbè vengo da voi mi importa la sega io guardo rai 5 cani 5 aspetta ho visto un film bellissimo ecco vai ora fa un figurone non so il nome del regista però praticamente la vita di van Gogh raccontata con le immagini tutte dipinte come i suoi quadri ah bravo loving vincent ci dicono speriamo sia vero se no ho capito un cazzo ma va bene un infame dal pubblico che dice il titolo sbagliato e dice quello sbagliato beh bellissimo tra l'altro è anche molto interessante perché alla fine tira fuori anche una tesi un po' differente da quella del luogo comune del van Gogh maledetto che si sarebbe suicidato ecco quindi quindi bello consigliato molto bello è un linguaggio cinematografico completamente nuovo mi viene in mente a scanner darkly con i nomi dei registi scusate Richard Linklater può essere sti cazzi va bene anche qui mi fido sicuramente che lì era stato filmato e poi era stato in qualche modo ricartunizzato il rotoscopio si chiama ecco e qui probabilmente hanno usato la stessa tecnica però con le pennellate che tra l'altro è tipo una scena un dialogo tra due persone con un fondale che dovrebbe rimanere fisso e in realtà vedi poi tutte le pennellate che si aggiungono a quelle che già esistono tutte pennellate belle corpose come quelle di Van Gogh per cui wow veramente molto molto bello ve lo consiglio le serie che cazzo ho guardato durante la pandemia mi sono ammazzato di serie che ti sei visto? una volta ci si ammazzava di altro passato alle serie che essere hai visto? quello del professore che diventa poi il più grosso spacciatore Breaking Bad si si come? Breaking Bad Breaking Bad bello e poi no aspetta ho visto anche altre che non mi ricordo mai i titoli ce ne sono milioni ragazzi ditemi qualcosa anche voi riempite questo vuoto serie durante la pandemia vai dai Bojack Horseman cartone animato cartone animato con il cavallo con il cavallo protagonista no prossima ma lì cacciatelo fuori adesso inizia questo gioco qua no vai prossima Better Call Saul ragazzi però lo sapevate che non l'aveva vista l'ho sentita l'ho sentita dire è la spin off di Breaking Bad ci vorrebbero i miei figliole loro sono sempre a guardarle Peaky Blinders no però aspetta che storia è? no non l'ho visto no però tipo in se non mi ricordo male in Mandalorian ci sta Werner Herzog può essere vero? cosa cosa? Herzog? vero? Werner Herzog sì in una serie? sì come attore? sì non so se è lui però è uno tedesco quindi forse è lui me ne devo scrivere io queste cose vabbè possiamo continuare una ne dovete prendere effettivamente c'è un sacco di roba fighissima girata a paura la nuova tecnologia digitale consente con costi infinitamente più bassi di girare immagini di altissima qualità anche con pochissima luce cosa è prima con la pellicola c'è c'era una volta l'America l'ultima scena di De Niro si fuma l'oppio che ci sono quattro candele ecco oppure Barry Lyndon ecco Barry Lyndon nel primo esempio di cinematografia ha girato tutto con le candele ma lì si parla dei curi erano budget mostruosi ormai con la nuova tecnologia e questo trovo che sia una cosa estremamente anche democratica insomma cioè ci vogliono dei budget allucinanti per mettere in pratica quelle che sono le idee anche di qualche studente di cinematografia ecco fino a che non trova un produttore che lo massacra sì no sono d'accordo questo è molto molto bello e chiede quell'altra cosa della stessa che volevi chiedere tu sì quella cosa scusa perché è proprio una questione di principio se se riescono a di una serie no però non diventiamo maleducati la casa di carta l'hai vista? sì 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 chi l'ha detto? chi l'ha detto? qualcuno I love you I love you perfetto qualcuno ha detto anche mare fuori però non so se stai guardando ma mare fuori allora vai io ho scritto una canzone che ho portato nell'anno di merda cioè il 2020 ho portato a Sanremo la prima volta andavo a Sanremo ho portato questa canzone si chiama Gigante e Gigante io l'avevo scritta per i ragazzi di mare fuori cioè per i ragazzi di Nisida perché avevo fatto un progetto tramite il comune di Napoli una serie di associazioni per scrivere per passare del tempo insieme a loro conoscersi poi scrivere una canzone insieme e insomma conoscere un mondo e dare anche portare un po' della mia esperienza della mia positività a chi ha vissuto un'infanzia di merda con la pistola sul tavolo della cucina con i sacchetti di cocaina o con lo zio sparato e la mamma che spaccia il babbo in prigione ha ammazzato pure lui e c'erano delle storie pazzesche che i ragazzi chiaramente io nemmeno glielo ho domandate le ho domandate io a qualche operatore e me le ha raccontate con grande discrezione e quindi da questo incontro mi sono venute fuori le parole di gigante spingi forte esci fuori d'acqua il buio crescerai aprendo porte tutti i giorni stare pronti bla 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 insomma più o meno quella storia lì poi però nel frattempo mi è nato anche un nipotino mio primo nipotino figlio di mia figlia grande e ho pensato che il bambino che nasce è un po' come anche quello che invece vuole rinascere dalle sue stesse scenerie o da quello che può essere un passato terribile come è successo a quei ragazzi quindi ho abbinato le due storie morale quando sono andato a presentare il pezzo a Madeo si è detto guarda questo parla dei ragazzi di Nisida del carcere minorile e poi anche del mio nipotino è diventata la canzone per il mio nipotino però in realtà parla proprio di mare fuori anche se ora mare fuori si sta trasformando un po' in una sop mi sembra mano a mano che va avanti un po' tutte storie d'amore ecco un po' un love boat dentro le sbarre è un po' la condanna delle serie che dopo un po' per tenere si però hanno visto che funziona così e quindi va bene magari diventerà come un posto al sole tanto un posto al sole un posto al sole a scacchi però dai ecco comunque è bello vedere anche tanti giovanissimi attori che meritano sicuramente tanto spazio infatti su questo tema l'ultima domanda che ti volevo fare è tu hai recitato nei Cassamortari mi pare si chiamasse come ti sei trovato a recitare recitare sono parole grosse diciamo che con Claudio a Mendola che mi ha invitato a fare tra l'altro tra virgolette il protagonista perché poi è un protagonista passivo cioè questa rock star insopportabile con un ego sconfinato anche alimentato da un forte uso di cocaina che diventa testimonial di campagne ad esempio appunto contro le droghe pesanti ma ne è un larghissimo consumatore campagne per la protezione degli animali e dell'ambiente c'è la casa piena di trofei di animali uccisi quindi proprio uno schifo dopo quindi da quel punto di vista proprio dovevo rappresentare quello che io odio della musica cioè proprio le star quelle dello star system diciamo che sia del mondo del cinema o della musica sono quelle che magari conosco un po' meglio quindi paradossalmente sembrava facile ma non proprio perché dovevo fare la testa di cazzo più di quello che sono e Claudio Amendola è stato molto gentile mi ha messo molto a mio agio e c'era anche Gimbo Tognazzi e tutto il resto del cast erano tutte persone che mi hanno messo estremamente a mio agio perché io ero in forte imbarazzo a mettermi anche a dire due parole con ciak azione cioè sbagli una volta due volte e poi ti senti un coglione capito poi c'è poi anche andare in blocco se non sei abituato a farlo ecco cioè su un palco teatrale potrei farlo un milione di volte ma nel silenzio di un set è tutto un altro mondo però è stato molto divertente ecco sì sì ho scritto anche la colonna sonora è stata un'esperienza forte non so se stanno facendo forse stanno preparando la serie ah sì può darsi e quindi poi ti becchi a recitare su un set tante cioè nel senso le serie durano tanto ma mi hanno resuscitato già quattro volte in quel film basta più di così poi intanto voglio dire che a smortare di lavoro ne hanno non è che si 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 tra l'altro c'è stata diciamo una coda interessante che mi era stato fatto un calco della faccia per tutte le scene dove appunto mi riesumavano per poi per fare il business con la rock star morta con tutti i fan per assimulare ancora soldi perché è un po' una commedia che parla appunto anche dell'aspettatezza dell'avidità delle persone e quel calco è finito a Milano tipo al museo del cinema e mi hanno chiesto poi in realtà stava alla produzione deciderlo di poter usare il calco della mia faccia su un corpo adagiato in una vasca da bagno come quella di Marat ucciso dalla contro rivoluzionaria in Francia durante la rivoluzione francese quindi se vi capita potete fare anche questa esperienza fantastica mi vedete morto in una vasca l'ultima cosa e poi ci andiamo tu hai due tatuaggi sugli avambracci con scritto Santa Sara che è una santa sì la santa dei rom dei viaggiatori si festeggia il suo il suo giorno un omastico i santi che fanno l'omastico la festa del santo la festa la sua festa è il 24 maggio e si fa in Camarga la Camarga è quella punta estrema giù della Francia dove spusa il fiume Rodano che in realtà è all'altezza di Roma né più né meno dove fischia sempre forte il maestrale e dove la leggenda narra che sia arrivata questa Sara una piccola serva nera di origine indiana da dove e quindi si dice anche che arrivino tutti i Rom che arrivò con queste due sante Madeleine e Giuditta ora non mi ricordo bianche le due sante bianche vengono onorate sull'altare principale e Santa Sara in quanto nera in quanto rappresentante di un popolo comunque sempre ghettizzato sta giù nella cripta il 24 si affezeggia Santa Sara e il 25 le altre due sante per Santa Sara convergono da ogni parte d'Europa e anche da altre parti del mondo perché sono stato per molti anni Roma Gitani Manouche che sono quelli francesi Sinti che sono i giostrai italiani Calderash i Calderai quelli che facevano le cose in rame i Roma e gli Zigani dall'est quindi decine di tribù che però hanno tutti una radice comune e che si riconoscono in Santa Sara io mi sento molto vicino a quello spirito e a quella cultura anche se sono apuano completamente però il mio cognome ha origini assolutamente oscure per cui potrei anche essere magari qualche goccia di Roma ce l'ho dentro pure io e ricordo sempre che quando nel genocidio che i nazi fascisti hanno fatto durante la seconda guerra mondiale c'erano molti milioni di ebrei ma anche mezzo milione di Roma e tanti oppositori politici e anche molti omosessuali perché è giusto dare un quadro completo della repressione che una dittatura può fare ci sono stati i pogrom contro gli ebrei anche nella russia comunista ci sono ci sono tuttora le repressioni sui popoli del nord ovest della cina da parte del governo cinese quindi sia ben chiaro non è che mi soffermo solamente agli orrori delle dittature nazifasciste ma di tutte le dittature quindi i rom sono in quanto nomadi in quanto persone che non hanno una fissa dimora e che spesso soprattutto negli ultimi anni poi qui a Roma ci sono dei precedenti pesanti insomma queste famiglie rome che hanno rome credo giusto casa monica credo di sì credo rome che insomma hanno sono diventati sinti il pubblico ci dice sinti ah ok scusate mi scuso con i rom insomma comunque mai generalizzare perché ci sono tantissime i sinti sono spesso quelli che vivono delle giostre no Virginia Raffaele che è una grandissima attrice cantante ballerina e donna di estrema cultura e simpatia è Sinta perché lei è cresciuta all'Una Park dell'Euro e lo dice nei suoi spettacoli quindi pensate voi quante persone ma tante persone di origine rome e Sinta spesso si vergognano di dirlo e questo naturalmente fa male a loro ma anche a noi perché in realtà non capiamo bene le origini delle persone che invece non dovrebbero mai essere mascherate vedi forse si ricordiamo le date del tour si al volo e poi chiusura ricordiamo Piero sta in tour dal 7 luglio dal 7 luglio sarò in giro a suonare per tutta Italia venite dove volete vi aspetto dai un altro applauso per favore Piero Pelù Piero Pelù grazie a voi bravissimi tornate quando volete ragazzi vi aspetto a braccia aperte fate un applauso anche a voi e un applauso a questo bellissimo pubblico davvero snodo Stefano Rapone di Come Di Club e ancora per l'ospite ci vediamo alla prossima puntata ciao complimenti a tutti ciao grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti